Siamo arrivati quasi a metà luglio, la stagione è ben avviata, come sta andando per i bagnini di Rimini? Sicuramente questo è un anno un po' particolare, perché oltre al discorso della crisi internazionale che ha colpito un po' tutti i paesi, soprattutto quelli europei, l'Italia in particolare, c'è stato anche il tempo che ha influito in maniera negativa sull'affluenza turistica. Però registriamo che dopo un avvio molto difficile di maggio e giugno, luglio sta riprendendo un po' in quanto a presenze, soprattutto presenze straniere. E anche gli italiani si stanno muovendo grazie al fatto che il clima è notevolmente migliorato e il caldo si fa sentire. Io direi che se la stagione dal punto di vista meteorologico ci aiuta, riusciremo anche quest'anno a risolvere la stagione in maniera positiva o con delle leggere perdite. Quindi in assenza di turisti italiani i turisti stranieri vengono apprezzati sempre di più? Certo, sì sì, ormai diciamo che il turista straniero ha un peso specifico sempre più alto e fra gli stranieri il russo è quello che ha una presenza maggiore. È un cliente sempre più importante, molti di essi fra l'altro sono clienti che spendono e quindi hanno un potenziale economico molto interessante e a volte fanno la differenza su il resto della clientela. Qual è la tipologia del cliente che vi trovate quest'anno? Regna ancora il mordi e fuggi o si fermano un po' di più? Per quanto riguarda il turista straniero la permanenza media è sulla settimana e dieci giorni mentre invece per quanto riguarda il turista italiano la permanenza diminuisce in maniera vertiginosa addirittura mentre una volta si registrava il weekend quindi i tre giorni del fine settimana adesso anche durante la settimana si registrano presenze di uno o due giorni sempre più frequente soprattutto nella clientela italiana.